Che cosa si intende con l'espressione complemento di argomento? Si intende uno dei tanti complementi indiretti che esistono sia in latino sia in italiano. Nella fattispecie stiamo parlando di quel complemento indiretto che serve ad indicare, a esprimere l'argomento, cioè il tema, la tematica, di cui si sta parlando, scrivendo o pensando. Vediamo un esempio in italiano. La frase che dice così. Avete parlato per un'ora di politica. Proviamo a fare l'analisi logica di questa frase. Voi, soggetto sottinteso, avete parlato, predicato verbale, per un'ora, complemento di tempo continuato, e poi facciamoci la domanda. Di che cosa? Di quale argomento? Di quale tematica avete parlato? Di politica. Stiamo esprimendo dunque l'argomento di cui si parla, e lo chiamiamo quindi complemento di argomento. Attenzione, in italiano è introdotto molto spesso dalla preposizione di, e quindi si potrebbe confondere con il complemento di specificazione. Vediamo ora una seconda domanda. Come si esprimeva in latino il complemento di argomento? In maniera molto molto semplice. Si esprimeva con la preposizione de, seguita dal caso ablativo. Vediamo due esempi. Partiamo dal primo. Cicero, opus, deamicizia, scripsit. Lo traduciamo alla lettera. Cicerone, soggetto, scrisse, predicato verbale. Che cosa? Opus, un'opera, un libro, complemento oggetto. Su quale argomento? Di che cosa parlava in quest'opera Cicerone? De amicizia. Vedete? De più ablativo della parola amicizia. Sull'amicizia. Ecco la traduzione. Cicerone scrisse un'opera sull'amicizia. Vediamo un secondo esempio. Consul sermonem decatilina pronunziavit. Lo traduciamo in italiano. Il console, soggetto, pronunziavit sermonem. Tenne un discorso, predicato verbale più complemento oggetto. Il latino dice de catilina. De più ablativo del nome catilina. Su catilina, riguardo a catilina. Era evidentemente questo personaggio dell'argomento del discorso. E dunque il console tenne un discorso su catilina. Come potete vedere, è molto semplice il modo con cui il latino esprimeva il complemento di argomento, sempre allo stesso modo, con de più il caso ablativo. Un terzo ed ultimo punto, o meglio una piccola puntualizzazione. C'è un caso particolare. I titoli dei libri. In latino, i titoli dei libri sono anch'esse considerati complementi di argomento. Possono quindi seguire la regola generale. Si possono esprimere con de più ablativo quando si vuole sottolineare l'argomento che i libri trattano, l'argomento trattato. Vediamo un esempio, un libro molto famoso, il Debello Gallico di Giulio Cesare. C'era però anche una seconda modalità per esprimere il titolo di un libro, e cioè il nominativo semplice, il nominativo da solo, non preceduto da alcuna preposizione. Si preferiva questa seconda modalità quando invece il titolo esprimeva il protagonista, reale o ideale, del libro di cui stiamo parlando. Un esempio è dato dal titolo di una famosa commedia di Plauto, che si intitolava Amfitruo, Amfitrione, dal nome di uno dei personaggi. Dunque esistono due modi in latino per esprimere il titolo di un libro. De più ablativo, regola generale, per esprimere l'argomento trattato. Oppure nominativo semplice, quando invece stiamo esprimendo il nome del protagonista dell'opera stessa. Spero di essere stato utile nella spiegazione del complemento di argomento in italiano e soprattutto in latino. Se il video vi è stato utile lasciate un like e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale YouTube. Grazie mille a tutti per l'attenzione e ci vediamo al prossimo video.